Il battistero di San Giovanni è addobbato con alcuni drappi celebrativi e un gruppo di inservienti trasporta le vivande mentre il palco è occupato da una serie di musicisti in festa. Il matrimonio è quello a Di Mari Ricasoli del 1420 in una scena rappresentata dallo scheggia il fratello del masaccio intorno al 1450 sul pannello del cassone Di Mari che noi continuiamo a chiamare cassone anche se in realtà non era affatto un cassone bensì una spagliera. Ciò che continua a sorprenderci oggi oltre alla sua bellezza estetica è lo scorcio raro e suggestivo della Firenze di quegli anni.